Ascolta la mia voce e io ti darò un consiglio e Dio sia con te. Esodo capitolo 18 versetto 19 All'organo Un giorno l'organista di un villaggio della Germania suonava un pezzo di Mendelssohn sull'organo della sua chiesa. In verità lo stava suonando molto male. Un visitatore scivolò senza rumore nella chiesa, si sedette su uno degli ultimi banchi nell'ombra e ascoltò. L'organista terminato il pezzo si preparava per andarsene. Quando lo straniero prese coraggio e salì verso di lui chiedendogli Mi permette di suonare un po' sul suo organo? Certamente no, dispose l'uomo con tono burbero. Non permetto mai a nessuno di servirsene. Ma almeno lei sa suonare? Educatamente lo sconosciuto lo assicurò di essere familiare con lo strumento e insistette così tanto e bene che l'organista finì con la consentire. Il visitatore si sedette, tirò i registri e cominciò a suonare lo stesso pezzo. Ma che differenza! Sembrava un'altra musica e un altro strumento. La chiesa sembrava risuonare di un'armonia celestiale. L'organista era visibilmente imbarazzato. Ma lei chi è? Gli chiese. Lo straniero rispose Il mio nome è Felix Menderson Come? Disse l'uomo rosso di vergogna Come? E io ho rifiutato a lei il permesso di suonare? Non me lo perdonerò mai Cari amici, non imitiamo quell'uomo. Gesù, il nostro Salvatore e Maestro, vuol rendere tutta la nostra vita come uno strumento armonioso e trarne una lode alla gloria di Dio. Lasciamo che sia Lui a guidarci in ogni cosa che facciamo. Lasciamo che sia Lui a guidarci in ogni cosa che sia Lui a guidarci in ogni cosa che facciamo. Grazie. Grazie.